Buonasera a tutti, ciao a tutti, io sono Rossella e benvenuta Veronica Raimo. Grazie. Come stai Veronica? Bene. Allora, scaldiamo un po' il pubblico, magari prendete posto e iniziamo. Io volevo partire proprio dalle basi, cioè proprio per sfatare un mito. Un libro si deve giudicare dalla copertina. Io ce l'ho qua, vabbè, lo vedete anche dietro. E partirei da una sorta di aneddoto, ma credo che tu lo sappia già. Noi ogni volta che abbiamo pubblicato su Instagram e su Facebook questa locandina, usciva un disclaimer che ho scritto che non stavamo rispettando le regole della community per nudità. Non so se lo sapevi. Ecco, però, per parlarne un po', la foto in copertina è di una famosa fotografa che si chiama Mona Kuhn, molto contemporanea, tedesco-brasiliana, che è molto famosa per fotografare l'essenza umana, giusto per decantare anche la copertina, che è molto molto bella. Ma venendo a un secondo aneddoto, giusto per rompere il ghiaccio. Quando ti ho contattata per dirti, vieni a Sharebooks, ho detto, però, Veronica, io non ho ancora letto il tuo romanzo, l'ho appena comprato. E tu hai detto, no, non è un romanzo, però spero ti piaccia lo stesso. Quasi a dire, metto le mani davanti, perché ho scritto questa volta un libro di racconti. Non so se ho visto bene, ma non è che hai voluto calarti appieno in una sfida impossibile, anche perché al momento, ad oggi, anche la stessa editoria italiana un po' considera e un po' vitupera il genere letterario dei racconti. Com'è andata a finire questa storia? Buonasera, grazie. Parto prima dalla prima questione della copertina incriminata. In realtà, nonostante sapessi benissimo poi che non sarebbe stata la copertina preferita dell'algoritmo. Era un'immagine che è stata una lunga, insomma, non lotta, però è stata una lunga, quantomeno trattativa, la copertina di questa raccolta di racconti, perché tendenzialmente io volo qualcosa di molto diverso da quella che appara la copertina di niente di vero e anche volo qualcosa di diverso da quella che ormai è diventata un po' un'estetica delle copertine non soltanto enaudiane, ma in generale di libri scritti da donna, ovvero il volto di una donna, molto spesso in bianco e nero, ma non per forza, che guarda in camera così con una faccia tra l'intenso, l'austero e l'ipersignificativo, però un'ipersignificativo che mi sembrava non significasse più nulla se appunto è diventato quasi una sorta di clone di copertina, quindi volevo evitare in tutti i modi che ci fosse un viso di donna in bianco e nero che guardava in camera. La copertina di niente di vero aveva effettivamente un volto non di donna, di ragazzina, però faceva una smorfia strana, quantomeno a me questa cosa che bisogna avere un volto di donna e guardava in camera, mi sembrava veramente un cliché da cui mi volevo allontanare e mi interessava avere un'immagine sia ambigua sia molteplice da leggere, quindi abbiamo tre figure, sì sono nude, però in cui non sono chiarissime le relazioni tra di loro, sono due figure più adulte, una figura più giovane, più adolescenziale, non sappiamo quali sono i loro rapporti, non si capisce bene dove sono, l'unica evidenza è il fatto che siano nudi, però non c'è neanche, mi sembra una sensualità torbida, c'è una sensualità e basta, a me interessava questa ambiguità di lettura e anche possibilità di interpretazione e basta, quindi insomma quando ho visto questa immagine citeremo molto, mi sembrava un'immagine perfetta anche per racchiudere poi quelli che sono dei racconti appunto, quindi delle storie molto diverse tra di loro e volevo che fosse un'immagine il più larga possibile da un certo punto di vista, appunto è una raccolta di racconti effettivamente e la raccolta di racconti non soltanto non sarebbe piaciuta all'algoritmo ma proprio al mercato, mettiamola così, però ho voluto in questo caso un po' sfruttare una posizione, cioè con una possibilità, niente di vero è stato un romanzo che ha avuto un ottimo riscontro sia di critica che di pubblico, quindi è stato un romanzo che è andato commercialmente bene e di solito quando uno scrittore o una scrittrice diciamo scrive un romanzo di successo è come se si aspettasse poi che in quel momento quindi ha trovato la sua voce e deve continuare a usare quella voce per sempre, cioè come se tutto il resto quasi non contasse, conta quello che il mercato ha deciso che conta. Io ho voluto fare un po' questo azzardo probabilmente anche autolesionista però per fortuna poi è stato un azzardo ma non così autolesionista e invece sfruttare quella posizione diciamo di privilegio per pubblicare una raccolta di racconti che in realtà un po' illustrano quello che è stato il mio percorso di scrittura, quindi sono dei racconti che ricoprono un arco temporale di una quindicina d'anni, dei racconti molto diversi tra di loro in cui non è che, cioè io non lo vedo come un percorso in senso, né in senso lineare né in senso carreristico, non so come dire, non è che è come se avessi cominciato a muovere i primi passi e piano piano dovevo scoprire la mia voce e poi finalmente l'ho scoperta e l'ho scritto un libro che è andato bene. È proprio un po' invece cercare di rivendicare qualcosa di diverso, ovvero che chi scrive può provare a sperimentare in diverse direzioni, può scrivere cose molto diverse, può scrivere cose che a seconda magari del momento, della contingenza della sua vita rispecchiano appunto una versione di sé che è completamente in antitesi oppure in conflitto oppure anche in un rapporto dialettico con un'altra versione di sé, però per me la cosa interessante è esattamente questa, questi racconti sono stati scritti appunto in quindici anni, io ci ritrovo non solo varie versioni di me ma anche vari tentativi di scrittura, di sperimentazione e il fatto che oggi l'editoria creda così poco poi nei racconti che li consideri un po' non appunto delle opere a sé ma delle opere di serie B quasi del non so un prodotto meno rilevante per me è non soltanto una grande distezza ma anche un grande abbaglio perché molti scrittori e molti scrittrici non soltanto partono proprio dai racconti ma continuano a scrivere racconti nel loro percorso creativo perché è davvero una paletta di sperimentazione, di possibilità e di diversificazione che probabilmente un romanzo ti concede molto meno perché appunto è un'opera che richiede più tempo, che richiede più omogeneità, più compattezza, mentre i racconti possono davvero farti andare in tante direzioni in cui non potresti andare. Grazie, sempre la regia molto pronta, grazie Veronica. Volevo parlare un po' delle tue protagoniste, femminile non a caso perché in tutti i racconti protagoniste al femminile. Vivono degli sprazzi un po' fugaci di vita, una volta che il lettore inizia un po' a familiarizzare e si accanisce inesorabilmente poi la storia termina nel bel mezzo di una rivelazione. È un po' crudele perché magari uno vorrebbe andare oltre però allo stesso tempo è anche molto entusiasmante perché sembra di leggere tanti libri in un uno. E venendo proprio al concetto di unità volevo chiederti se poi alla fine sei riuscito a trovarci un fil rouge tra le varie storie che hai scritto. Io personalmente più volte forse l'ho ritrovato però credo anche di essere stata un po' abbaiata dall'utilizzo della prima persona. Non so se... In realtà il libro non è stato concepito come un concept album per cui il fil rouge, l'omogeneità è più una visione che ho avuto a posteriori rispetto che poi nel mettere insieme le storie. Però sicuramente una costante sia il fatto che ci siano delle donne protagoniste, quindi delle voci femminili e se devo pensare a un'altra cosa che unisce questi racconti è il fatto che queste donne hanno una caratteristica abbastanza comune che è quella di ritrovarsi quasi costantemente in una condizione di spesamento. Cioè quasi come se volessero... Questa non è io che do... Non so... C'ho una carica... No... Di nuovo... Non so... Ok... Ehm... Appunto come a me in questo momento anche uno mi funziona il microfono, è come se non avessero un chiaro punto di approdo, di arrivo e si interrogassero costantemente, si arrovellassero su quello che stanno facendo, su quello che vogliono, sui propri desideri e avessero appunto questa sensazione di trovarsi o un po' a caso in un luogo che non hanno scelto o appunto in un... Non lo so... In una strana condizione su cui non hanno totalmente il controllo, mettendo insieme i racconti, mi sono resa conto che spesso queste donne si chiedevano che ci faccio qui. Tanto che questa frase, visto che ricorreva così tanto, a un certo punto ho anche dovuto eliminarla da certi racconti, perché non posso mettere tutte le persone che ci faccio qui. E questo qui era un qui che poteva essere appunto una stanza, una situazione, un rapporto o una scelta. A me quello che interessa poi in generale nella scrittura, insomma nei personaggi che cerco di creare, è il continuo arrovellamento, il continuo mettere in crisi anche proprio un traguardo minimo che si è riuscito a ottenere e anche un mettere in crisi costantemente i propri desideri. Cioè è come se alle donne, soprattutto da quando finalmente si è accordato, insomma si è accordato loro la possibilità di avere un desiderio, no? Finalmente si può parlare del desiderio delle donne, ok? Le donne desiderano, non esiste il desiderio delle donne e viva. Però quest'idea che ci sia un desiderio può diventare un ulteriore fardello, è come se ci fosse una sorta di ingiunzione da parte poi del mondo esterno, della società, nel momento in cui si accorda alle donne il fatto di poter desiderare, di sapere esattamente cosa desiderano. O avete voluto desiderare, adesso sappiate cosa volete. E invece appunto a me interessa anche rivendicare non soltanto l'ambiguità dei propri desideri, ma anche la possibilità di trasformarli, di cambiarli, di rinunciarci, di andare in un'altra direzione. Quindi sono un po' dei racconti costruiti su questa devianza su questo scarto continuo, invece di pensare appunto in una maniera un po' più strutturata e lineare di donne che desiderano e vanno a prendersi quello che vogliono. Non ci credo tanto a questa parabola un po' vincente della donna che sa cosa vuole e se lo va a prendere. Mi interessa appunto un po' così da un punto di vista etico che politico, ma anche letterario. È molto interessante. Io resterei anche sullo stesso solco perché spesso la comunicazione che possiamo definire un po' mainstream forzatamente inserisce la donna in un canone un po' vittimistico, possiamo dirlo. Mentre invece le tue protagoniste sono autodeterminate, libere, però anche alle volte violente, ciniche, fino anche carnefici, senza fare spoiler, c'è un episodio abbastanza forte. Io volevo chiederti se la tua scelta di scrittura è stata voluta, cioè hai proprio voluto questo capovolgimento di una narrazione un po' tossica o è un qualcosa la quale magari ci hai ragionato un po' dopo. Direi tutte e due le cose. Ci sono delle narrazioni rispetto appunto al mondo delle donne che mi sembrano diventate davvero appunto dei cliché, come appunto quello della donna che deve autodeterminarsi senza mai mettersi in crisi, da un lato però appunto il cui rivescio della medaglia invece può essere la donna invece totalmente vittimizzata. Mi sembrano delle narrazioni un po' troppo chiuse, omogenee, cioè con poca possibilità anche di porosità, di permeabilità. E quindi rispetto a questa cosa a me si interessava a operare una sorta di rovesciamento e cercare dei punti di vista diversi. È anche vero che io quando scrivo non ho mai davvero né per un racconto, ancora meno per un romanzo, un'idea chiara di un inizio, di una fine oppure di una trama strutturata. Insomma non è che ho i passaggi in mente, magari ho delle scene però appunto non i passaggi. E quindi è come se ogni volta che poi mi ritrovo a mettere dei personaggi in una determinata situazione pensando che possa accadere qualcosa, sono la prima a sorprendermi perché se sposto anche di pochissimo la lente con cui guardo questi personaggi, effettivamente le cose potrebbero essere vagamente diverse. E quindi mi interessa subito inserire un'altra prospettiva. Cioè cercare sempre di vedere non esattamente il rovesciamento ma uno slittamento minimo in cui il significato delle cose può cambiare. Quindi questa instabilità di posizionamento mi verrebbe da dire e questi personaggi un po' vivono appunto in questo slittamento continuo perché sono io stessa che mentre scrivo mi sento costantemente spostata, costantemente spostata da me stessa in cui pensavo di portarmi una scena a casa per fare a un determinato personaggio una certa cosa e poi nel momento in cui scrivo questa cosa cambia, si apre un altro orizzonte e quindi cerco di seguirla anche se non so esattamente dove mi sta portando. Però insomma mi sembra sia una cosa più vitale che più onesta proprio dal punto di vista della scrittura. Grazie. Ma volevo parlare oltre protagoniste donne che però sovente si associano chiaramente a delle figure maschili. Cioè chi sono le figure che narri nel tuo libro di racconti? Sono padri? Sono fidanzati? Sono amanti? Ma secondo te non è che fanno magari una figura un po' più cliché? Cioè è una domanda un po' provocatrice la mia. Nel mentre che le donne invece sono come abbiamo detto prima tutto quello che sono, dall'altro lato vedo questi uomini un po' più non so scaduti. È una mia impressione o magari volevi tratteggiarli tu stessa in una movenza del genere? Sicuramente hanno meno sfaccettature e sì questo può essere poi anche un rischio sposando poi il punto di vista della protagonista che è una donna. Cioè quindi magari un modo di rendere più bidimensionali o delle macchiette l'uomo con cui queste donne sono in relazione. può essere anche una forma di difesa di queste donne. Comunque se il punto di vista è loro ci sta che c'è una complessità rappresentata rispetto a loro stessa e diversa mentre magari c'è un punto uno schiacciamento di questi uomini. È assolutamente vero. Infatti forse c'è un racconto in terza... no sono tre gli uomini possono essere un po' più articolati ma è vero che nonostante sia un racconto in terza persona comunque è una terza persona comunque schiacciata su un punto di vista femminile. sì direi che è un po' un uso strumentale che ho fatto di questi personaggi maschili però siamo stati strumento noi per tanto tempo che insomma ho pensato anche che me lo potevo permettere quindi se sembrano un po' a volte delle caricature, delle parodie di uomini sì ci sta insomma mi prendo anche questa responsabilità. Un po' il tipo d'uomo che ho spesso rappresentato è forse proprio dal mio punto di vista l'idiosincrasia maggiore che ho rispetto a un certo tipo di mascolinità non è neanche tanto la mascolinità tossica ma è la mascolinità assertiva cioè gli uomini sicuri di sé e che devono anche farti affascinare a questa loro sicurezza cioè per me l'assertività è proprio la cosa più noiosa del mondo cioè rispetto veramente a un uomo assertivo preferisco quasi un uomo violento se devo scegliere e quindi un po' questi personaggi sono delle caricature sì di uomini assertivi. Beh comunque ben detto e volevo un po' fuoriuscire dal romanzo scusa dal libro di racconti ecco vedi ci stava per parlare di un tuo articolo molto recente credo la settimana scorsa lo hai scritto su Lucy un articolo che parla di maternità cioè tu scrivi che spesso la maternità è definita come una sorta di miracolo in cui le donne sono sempre dipinte come madonne magari con un bambinello in braccio con un ostinato utilizzo anche di un linguaggio per così dire mistico madonne angeli e quant'altro poi scrivi anche l'esistenza di una donna normalmente deve ad ogni costo girare attorno al cosiddetto dilemma della maternità un risvolto interessante che poi leggevo tra le righe riguardava anche un contesto più nostro che tu definisci quello frequentato da donne progressiste e sessualmente istruite in cui poni anche il risalto dell'assenza di un linguaggio laico per contrapporlo a quello mistico ma ti chiederei nonostante comunque credo e penso che tu convieni il movimento trasfeminista qualche passo lo sta facendo e probabilmente anche passi da giganti a che punto siamo in realtà quello che a me sembra che manchi all'interno di un discorso sulla maternità che è un discorso che magari appunto per non anni per secoli non è stato affrontato soprattutto non è stato affrontato dalle donne perché un po' perché banalmente non avevano accesso proprio al discorso pubblico non avevano accesso al mercato editoriale o anche insomma in ambito filosofo ci sono pochissime pensiamo alle filosofi del novecento che possiamo citare ora che per fortuna questa cosa è cambiata quello che temo è che si focalizzi davvero in maniera quasi esclusiva un discorso intorno appunto a questo grande questo grande tema questo grande dilemma della maternità se avere o meno di figli quando per fortuna appunto le donne hanno finalmente un accesso che gli è stato sottratto per anni per secoli magari se vogliono anche occupare d'altro cioè non è detto che tutte le donne dalla mattina alla sera non facciano che chiedersi se vogliono o meno dei figli che questa cosa sia proprio la domanda centrale della loro vita e che scandisca ogni secondo delle loro giornate l'altra questione è che mentre appunto ci stiamo giustamente cioè stiamo giustamente ragionando su come rendere inclusivo il linguaggio per appunto per accogliere dei soggetti che appunto che non sono mai stati considerati soggetti attivi per quanto riguarda tutto il discorso sulla maternità siamo ancora ancorati a delle espressioni che sono totalmente succubi di un immaginario religioso e antiscientifico a me quello che mi un po' mi sconvolge e mi infastidisce anche i libri appunto di donne di sinistra progressista eccetera quando si parla di maternità ma non so tanto di libri di articoli eccetera che comunque si fa ancora ricorso appunto se si è a determinate espressioni che appunto provengono da un mondo antiscientifico sia dal fatto che si dà per scontato questa centralità di cui parlavo prima faccio degli esempi concreti un'espressione come ha deciso di non tenere il bambino un'espressione che noi useremo in maniera cioè è un'espressione proprio del nostro linguaggio comune però in teoria non c'è nessun bambino da tenere cioè se effettivamente dobbiamo parlare di embrione parliamo di embrione se parliamo di feto parliamo di feto perché nel linguaggio corrente un'espressione come ha deciso di non tenere il bambino quando appunto in teoria non ci dovrebbe essere nessun bambino non passa al vaglio di nessun tipo di problematizzazione secondo me appunto questa questione di non interrogarci sull'uso che facciamo di un discorso intorno alla maternità come appunto il fatto di definire la maternità un miracolo come se fosse un'espressione neutra cosa che non useremmo rispetto a un altro dato biologico naturale in questo articolo facevo l'esempio della fotosintesi non c'è niente da dire la fotosintesi è un miracolo diciamo che anche la fotosintesi è un miracolo ok diciamo appunto in senso è una cosa meravigliosa ok però la maternità è un miracolo il miracolo della maternità è proprio una frase fatta che forse bisognerebbe cercare di disinnescare ecco mi sembra che rispetto al discorso della maternità proprio da un punto di vista linguistico non ci si stia davvero interrogando nonostante il tema della maternità se l'avere figlio o meno sia diventato centrale nel dibattito anche all'interno del femminismo e in tanta della produzione letteraria sia di fiction che di non fiction di libri scritti dalle donne vorrei che si trovasse cioè si trovasse a interrogare proprio sul tipo di parole espressioni e frasi che usiamo per parlare della maternità e ridiscutere anche proprio che cosa significa maternità io continuo a mettere il dito nella piaga e tu scrivevi anche chiaramente di aborto lo hai già accennato tema chiaramente anche questo legato a una comunicazione molto distorta al fatto che è sempre interconnesso a un dolore, a un tormento a un'elaborazione di un lutto anche a sinistra normalmente le donne dicono nessuna donna mai vorrebbe sottoporsi a un aborto ebbene io ti chiedo all'indomani anche delle dichiarazioni alla Camera dei Deputati della Lega agli attacchi continui alla 194 o comunque ai processi giudiziari contro le case delle donne come nel caso di Luce Sieste a Roma cioè come si può andare davvero oltre quella narrazione di un aborto vissuto come un trauma o come un lutto so che chiaramente è un tuo cruccio lo scrivevi ma anche alla luce di alcune pagine social divulgative tipo i VG e sto benissimo cioè si può davvero superare questo frame del tormento? Sarebbe secondo me necessario interessante farlo non soltanto quando ci si ritrova a dover difendere la 194 da degli attacchi fascisti della destra perché il punto è che la 194 è una legge che per fortuna esiste ma una legge che andrebbe modificata in maniera molto appunto più progressista e illuminata di quanto sia adesso però questo c'è questo tipo di intervento da parte della sinistra non è mai stato portato avanti anche negli anni in cui non c'era appunto lo spauracchio che potesse essere messa in crisi cioè la 194 è stata una legge un diritto acquisito non si è mai più intervenuto su questo cioè il fatto che appunto magari c'è il il consulto con uno psicologo come si chiama obbligatorio cioè perché se una donna decide in maniera consapevole di avere un'interruzione di gravidanza deve andare a parlare con uno psicologo o una psicologa probabilmente avrà già fatto insomma dei suoi ragionamenti cioè comunque non è mai stata ripensata diciamo all'interno della sinistra e quindi certo poi nel momento in cui bisogna proteggere e difendere ormai in questo momento storico ed è giusto appunto che bisogna compattarsi di fronte a una violenza più grande non ci sono dubbi però un po' mi spiace appunto un po' mi sembra una grande mancanza che non ci sia stato un discorso perché adesso come ancora da parte di quelle che vengono considerate delle grandi femministe storiche delle grandi figure di riferimento come può essere Dasha Maraini che l'ho sentita appunto cioè non solo ho scritto questo articolo sul Corriere della Sera che poi citavo ma io l'ho anche sentita parlare insomma un intervento alla libreria tuba una libreria femminista di Roma in cui continuava appunto con questo frame per me iperproblematico del fatto che per ogni donna l'aborto comunque è un dolore che nessuna donna è felice di abortire che è una specie di enunciato senza senso per quanto mi riguarda cioè non dobbiamo parlare della felicità di sottoporse appunto a un intervento però continuare a tenere un'interruzione di gravidanza in un frame di dolore appunto che sia pretraumatico postraumatico o comunque traumatico non mi sembra faccia serva alla causa femminista se appunto una figura di riferimento come Dasha Maraini che insomma non è che è il mio bersaglio però mi sembra sintetizzare un pensiero molto comune molto diffuso anche insomma in un'area di sinistra del femminismo forse questo è un problema cioè forse il fatto che non si riesca a parlare veramente in termini scientifici di che cosa significa fare un'interruzione di gravidanza di quali siano i reali problemi poi fattuali pratici burocratici il fatto che appunto medici o obiettori di coscienza per una appunto per un tornaconto personale per come è organizzata la sanità pubblica eccetera eccetera di questa cosa non si parli mai ma si parli ancora in termini etici di qualcosa che comunque ci porteremo dietro per tutta la vita se abbiamo deciso di farlo mi sembra davvero una narrazione che dovrebbe essere smantellata prima di tutto appunto da un punto di vista giornalistico ma poi e soprattutto forse a livello di immaginario e quindi nelle scritture nei romanzi nei racconti nei film in tutto quello che viene prodotto da un punto di vista creativo artistico grazie Veronica veramente interessante mi chiedo se dal pubblico magari dicono questi stanno facendo più che una presentazione di un libro di racconti magari un po' di politica però è importante parlarne fortunatamente Veronica Raimo è una grande scrittrice scrive editoriali si parla anche di queste tematiche quindi che ben venga che se ne parli anche qui in questa sede soprattutto in questo festival festival di editoria indipendente quando ci siamo visti mi ha detto perché mi ha invitato no giusto per però venendo proprio al dunque in maniera un po' provocatoria vabbè non ne facciamo mistero che tu in precedenza comunque eri in una casa editrice indipendente anche molto famosa minimum fax che salutiamo però attualmente sei con Enaudi prima con Niente di Vero ora con La vita è breve eccetera Enaudi che chiaramente è stata acquistata dal gruppo Mondadori quindi la sua storia è molto nota io volevo chiederti più come esperienza di autrice se puoi anche parlarci delle differenze tra avere un rapporto professionale con una casa editrice indipendente e una casa non indipendente ma anche tratteggiare se riesci sia le luci e le ombre di entrambi i mondi se possiamo senza offendere nessun presente cerco di ovviamente parlo a titolo personale è un discorso totalmente ampio che appunto cerco di riportarlo un po' alla mia esperienza io credo che ognuno ognuna di noi in qualche modo debba fare dei conti con dei livelli di falsa coscienza di compromessi nella propria vita e rispetto a pubblicare con una casa editrice indipendente o con una major poi tutte le major ormai afferiscono appunto a questo mega gruppo mondadori e ovviamente sono delle scelte che non riguardano chi scrive ma non riguarda neanche poi chi si occupa dei libri dall'altra parte gli editor gli uffici stampa i redattori delle case delle major diciamo delle case editrici non indipendenti sono le stesse persone che magari lavoravano prima in una casa editrice indipendente ovviamente c'è molta mobilità il mercato riguarda qualsiasi aspetto della nostra vita insomma sarebbe anche un po' ingenuo far finta che non è così quindi riguarda ovviamente anche l'editoria io la mia esperienza con un fax è stato appunto il mio libro di esordio forse è l'esperienza che ricordo con più affetto e con anche appunto con la nostalgia e la tenerezza che si può avere rispetto a ripensare a se stessi in un'epoca diversa non avevo neanche 30 anni quando ho pubblicato il mio primo libro il mondo editoriale era ancora molto diverso rispetto a oggi per una questione fondamentale che non è tanto l'editoria indipendente o l'editoria non insomma l'editoria delle major ma il fatto che non esistesse cioè esistessero da molto poco i social quindi non veniva chiesto per esempio agli scrittori di dover fare un'autopromozione costante di loro stessi di dover effettivamente poi lavorare gratis per delle multinazionali davvero molto più vaste e trasnazionali di quanto può essere il gruppo Mondadori forse so c'era facebook da molto poco ma erano anche forse twitter non lo so era il 2007 adesso non so esattamente datare l'avvento dei social però appunto questa cosa tutto quel livello di autopromozione gratuita però ormai obbligatoria quasi che devono fare gli scrittori e le scrittiche era una cosa che non veniva richiesta e c'era molto più che oggi i famosi intermediari adesso appunto c'è una totale disintermediazione quindi non esiste più la critica i giornali hanno perso qualsiasi rilevanza cioè un rapporto che sembra un rapporto diretto quindi democratico che però appunto è una finta democrazia visto che è deciso da multinazionali totalmente fuori dal nostro controllo e c'è un rapporto molto più cioè da un lato forse molto più trasparente cioè il mercato si rivela quindi qual è il tuo valore sul mercato è molto semplice da calcolare quanti follower hai quanto appunto quanto vale la tua immagine quanto vale l'autopromozione e questa cosa secondo me è una cosa che non si può prescindere appunto da un discorso intorno alle case editrici indipendenti o meno e l'altra questione è proprio il fatto che non esiste in Italia una rete di supporto almeno per chi scrive poi in altri settori magari esiste da parte da parte dello Stato cioè non esistono appunto sovvenzioni borse di studio se si fanno delle presentazioni non è che appunto si prendono dei getto appunto forse sì particolarmente famosi però non c'è una rete di sostegno statale per metterti nella condizione di scrivere quindi è normale che un autore o un'autrice a un certo punto se vuole fare quello nella vita quindi concentrare i propri sforzi nella scrittura a un certo punto cederà al mercato e e all'offerta migliore che gli può arrivare anche se appunto parlando della mia esperienza io ho fatto il mio secondo libro con Rizzoli sarei voluta rimanere con tutta me stessa a Minimum Fax Rizzoli mi ha offerto un anticipo più grande io ero una persona appunto che aveva deciso insomma mi ero laureata ho appena finito non un dottorato una borsa di ricerca postesi me l'avevo andata appunto di casa da vari anni la decisione era preferisco servire tavoli di una pizzeria cosa che stavo facendo oppure accettare questo anticipo e magari riuscire a sopravvivere per sei mesi magari avrei dovuto pensare che mi dava più indipendenza continuare a lavorare come cameriera e scrivere e continuare a stare come in un fax era una scelta nel senso non so giudicarmi non so giudicarmi neanche adesso è una scelta cioè a un certo punto uno fa delle scelte però queste sono le condizioni in cui si è se appunto non ci sono delle famiglie soli dalle spalle e se non c'è effettivamente uno stato che interviene da questo punto di vista e quindi poi diventa anche un falso problema quello delle dieteria indipendente o meno anche perché poi le persone che ci lavorano sono davvero le stesse e anche gli autori e le autrici che pubblicano con delle case editrici indipendenti sono le stesse che poi possono passare a una casa editrice non indipendente e poi tornare a una casa editrice indipendente insomma c'è molta flessibilità io penso che sicuramente un po' quello che è cambiato davvero negli ultimi anni quando a un certo punto per sopperire al fatto che non si vendessero libri se cioè la risposta è stata un po' una risposta assurda c'è stata una sovrapproduzione di libri come a dire qualcuno ce la farà e quindi cioè si scrivono e si pubblicano tantissimi libri invece di pubblicarne meno e seguirli di più cioè se c'è una cosa che secondo me andrebbe fatta in effetti a livello globale cioè in Italia cioè come come proprio strategia però condivisa tra le case editrici sì è quella di ridurre il numero di libri annuali e cercare di seguirli di più però quello della cura e quello di seguire dei libri è l'unico vero discrimine è l'unico vero criterio che posso dire di aver riscontrato in determinate case editrici però Minimum Fax è stata all'epoca una case editrice d'oro da questo punto di vista cioè con un livello scusate un livello di cura in tutti i settori cioè dal appunto dallo scouting dall'editing dall'ufficio stampa dalla redazione e altre case editrici non per forza più grandi cioè non per forza case editrici appunto non indipendenti invece hanno sicuramente una sciatteria abbastanza criminale però anche lì io non non la vedo come una una distinzione tra insomma tra indipendenti non indipendenti ma davvero di singole persone e di singoli progetti editoriali posso fare dei nomi ma insomma non è tanto quello il punto cioè secondo me il fatto che che ci sia una cura e che ci sia un progetto editoriale anche molto preciso quindi non questa idea di buttare sul mercato più titoli possibili e vedere chi ce la fa è forse l'unica forma di resistenza che si può avere e forse è una forma di resistenza che bisognerebbe cominciare ad avere in maniera anche collettiva grazie Veronica è stato veramente interessante anche a partire dalla tua esperienza è un contesto come questo festival è anche interessante domandarsi determinate cose e io volevo parlare un po' di te e più che altro sulla solita domanda che si fa all'artista allora dopo questo album quale sarà il tuo secondo a cosa stai lavorando però più che altro ci sono state tante cose in quest'ultimo momento il premio Strega Giovane in primis quest'altro libro di racconti cioè cosa ti immagini nel prossimo futuro hai pensato magari a un prossimo libro ti vuoi fermare cioè cosa bolle in pentola la solita domanda è un po' scontata mi rendo conto però magari è interessante anche per chi ti legge e ti segue mi sarebbe tanto saper rispondere in realtà sono molto contenta di aver pubblicato questo libro di racconti anche un po' per prendermi del tempo rispetto al prossimo romanzo perché tanto è quello appunto aprire questo mercato che decide un po' le regole di tutto ci si aspetta comunque un romanzo da da chi scrive cioè quindi per me questa raccolta di racconti è stata un prendere del tempo rispetto poi al prossimo romanzo che forse scriverò perché per ora non ho nessuna idea cioè guardando poi appunto quello che è stato il mio percorso ho scritto quattro romanzi molto diversi l'uno dall'altro una raccolta di racconti una raccolta di poesie filastrocche non ho idea cioè una cosa che non ho fatto che mi piacerebbe fare forse è un reportage cioè effettivamente non ho mai fatto un reportage non avendo nessuna idea di romanzo proprio e soprattutto avendo una grande disillusione per la fiction vera e propria cioè per l'idea di creare delle storie cioè in questo momento non ci credo più io non riesco più a leggere storie e boh magari è un momento che passerà spero però quindi ho pensato forse vorrei fare qualcosa un po' più di ibrido tra appunto finzione giornalismo reportage però davvero non ho idea e però questa condizione in cui mi trovo adesso che sta durando un po' troppo quindi un po' sono angosciata però ancora mi voglio dare un po' di fiducia è la condizione in cui in realtà mi sono trovata sempre quando ho iniziato a scrivere una nuova cosa cioè io sono sempre stata in un momento in cui ho un'opiniante da dire un'opiniante a scrivere forse è finita così e mi sembra comunque anche una domanda legittima da farsi come trovarsi sempre in una condizione un po' di rischio quando si scrive cioè non sapere che cosa si sta facendo secondo me senza quella condizione di rischio senza quella che poi rischia di diventare però un'ansia paralizzante si va incontro a una paralisi che è ancora peggio cioè sapere che non so per me l'idea di avere questa specie di certezza ecco guarda come gli uomini assertivi cioè io non riesco a dire io sono una scrittrice quindi scriverò per tutta la mia vita io non riesco a dire questa cosa e credo che appunto in qualche modo non mi riconoscerei più nel momento in cui arrivassi a questa certezza c'è una certezza che non mi interessa avere forse mi farebbe stare meglio ma va bene così quindi in questo momento non so che cosa scriverò se mai scriverò qualcosa ma ci sono passate tante volte e l'attraverso io ho due spunti per te che però possono capire chi ha letto il libro però magari possiamo far interessare le persone a leggerlo se non l'hanno ancora fatto per l'ispirazione hai necessità di una signora perillo dietro l'angolo e per il reportage ti consiglio la riqualificazione dei trulli su questo spunto che magari chi non l'ha letto magari non li capirà mai però magari ho dato un input per acquistare il libro io so che dopo un'ora di presentazione si qualifica il sequestro di persona quindi avrei più o meno finito però lascio anche la libertà magari se ci sono curiosità domande dal pubblico possono anche farlo senza problemi solito silenzio vuoi venire al microfono? buonasera abbiamo anche schivato la questione politica nei tuoi racconti anche se non fai esplicito riferimento a questo si sente insomma una grande una grande partecipazione a quello che è la politica in senso più alto del termine hai parlato anche della sinistra e di quello che la sinistra non ha fatto non fa la mia domanda è cosa ti aspetteresti dalla sinistra in senso lato per contrastare a livello sia politico ma anche a livello narrativo ideologico questa destra che è sempre più destra e che è sempre meno centro grazie se vuoi rispondere o vuoi raccogliere altre domande ah ok se c'erano altre domande meno impegnative no quello che mi aspetto non so non voglio fare il comizio in realtà anche semplicemente tornare a fare militanza cioè alla fine la politica significa stare nei luoghi occupare i luoghi e questa cosa è quello che è mancata cioè una adesso fa un po' ridere perché c'è questa cosa c'è questa espressione che è la partecipazione dal basso come se poi le cose dal basso fossero delle cose fatte un po' così quasi non professionale no come se il basso appunto avesse di per sé qualcosa che lo caratterizza in senso negativo però è davvero quella la questione cioè quello che che mi aspetto che mi aspettavo dalla sinistra era una partecipazione una una presenza nei luoghi nel territorio nel nel confronto che non c'è stato forse appunto il populismo di destra è riuscito a intercettare più di quanto abbia fatto la sinistra che è una sconfitta totale e in questo momento in cui ci stiamo qui a chiedere adesso appunto la destra sta occupando tutti i luoghi della cultura però è così che si fa politica si occupano i luoghi cioè ce ne siamo fregati per un sacco di tempo questa cosa stava già succedendo non è una cosa nuova cioè la politica è esattamente cercare di di esserci di essere presenti quindi di occupare e l'altra questione appunto parlando di occupazione quanto è stata miope rispetto cioè veramente parlando di politiche culturali quanto è stata mia poi la sinistra rispetto alle cose più interessanti che sono uscite penso una città come Roma dai posti occupati da da esperienze completamente spontanee quanto questa cosa la sinistra non ci si sia proprio interfacciata non le abbia considerate non abbia avuto nessun tipo di curiosità neanche cioè non soltanto di dialettica anche banalmente di curiosità e quella cosa appunto mi è sembrata un'altra scelta disastrosa e poi una grande anche quello sembra di fare un discorso populista però è vero che non non so non è che c'erano tantissime cose sensate da fare una patrimoniale un reddito di cittadinanza cioè non sono così tante le cose per ristabilire un salario minimo sì esatto una ok non ci potrà essere una giustizia sociale totale una ridistribuzione del reddito proprio certosina però ci possono essere degli aggiustamenti rispetto a questa cosa non mi sembra che la sinistra si sia interessata di questo non mi sembra che si sia interessata delle classi subalterne che è quello che doveva fare insomma sia a livello punto sociale ma anche proprio a livello del loro immaginario dei loro desideri cioè questa cosa è totalmente stata estranea alle politiche della sinistra degli ultimi anni e non credo che la destra cioè da questo punto di vista sia colmando davvero un vuoto però di facciata lo sta facendo quantomeno è più furba a far finta che lo stia facendo non so se ci sono altre domande perché altrimenti inviterei tutti voi presenti magari andare a trovare il libro di Veronica che trovate al banchetto alla mia destra insieme anche a Niente di Vero La vita è breve eccetera io ti ringrazio Veronica grazie a te a tutti e tutte grazie mille per la partecipazione grazie mille grazie a te